Le istituzioni di governo della nostra Repubblica hanno bisogno di un clima che, lungi dalla conflittualità, sia di fattiva collaborazione per poter assumere decisioni sollecite e tempestive, al fine di assicurare il buon andamento della vita nazionale in tutte le sue dimensioni, da quella sociale a quella economica. Il presidente Mattarella, nel tradizionale appuntamento di mezza estate al Quirinale per la consegna del ventaglio da parte della stampa parlamentare, richiama il governo all'unità. Di fronte all'altigiosità dei partiti di maggioranza, il capo dello Stato ribadisce che il Quirinale non compie scelte politiche, come prevede la stessa Costituzione. Tra i tanti temi che oggi tengono vivo il dibattito politico, c'è anche quello legato al ruolo della magistratura, la cui autorità e il prestigio, ricorda il capo dello Stato, sono essenziali per la Repubblica. Infine l'Europa, che guarda una nuova fase, un cambiamento che mette al centro la solidarietà, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, che si sentono e sono sempre di più popolo europeo. Alla luce di questo, l'Italia non può e non deve isolarsi. Sottolineo soltanto che è di grande rilievo aver evitato l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese. C'è poi l'economia, quella italiana e solida, come dimostrano i provvedimenti assunti dal governo in intesa con la Commissione europea, dice Mattarella. Le scelte positive del governo hanno incontrato anche la fiducia dei mercati finanziari, con lo spread sceso notevolmente e la borsa in buona salute.